Il fiore di Bach di oggi è verbein, cioè la verbena, un piccolissimo fiore, molto bello. Questo fiore di Bach è adatto a quelle persone che hanno molte passioni, molti interessi nella loro vita, non sono mai nell'ozio, nella tranquillità, pieni di idee, fanno aggiornamenti, si imparano, si volontariato e quant'altro. Il problema sorge nel momento in cui queste persone sono talmente convinte della giustezza, della bontà, dei propri principi, dei propri ideali, di quello che fanno, che vogliono convincere gli altri. E nel fare questo diventano molesti perché sono molto molto insistenti, quasi con impeto, con una certa violenza, vogliono convincere gli altri che gli altri li seguano, che condividano e apprezzino quello che loro fanno, quello in cui loro credono. E in questo modo diventano fastidiosi perché chiaramente devono parlare, va benissimo, diffondere le proprie conoscenze, i propri pensieri, va benissimo, ma rispettare le idee degli altri che potrebbero essere differenti, che potrebbero avere delle priorità differenti. E con questo fiore accade proprio questo. Queste personalità incominciano a accettare anche che gli altri possano non condividere o comunque non voler seguire il loro percorso.